Benvenuti da Claudio Brachino a questa nuova puntata di Italpress Economy, ve lo dico subito all'inizio, una puntata molto ricca di notizie e di approfondimenti su grandi temi di cui avete sentito parlare durante tutta la settimana. La principale notizia che riguarda l'Italia di politica economica è che il governo ha dato il via libera al testo base della cosiddetta manovra o legge di bilancio per circa 30 miliardi di euro. Ma sentiamo i particolari e poi ci faremo ovviamente anche il nostro focus oggi. Il Consiglio dei Ministri ha varato la manovra economica, previsti interventi con effetti pari a circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. La manovra rende strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote IRPEF articolata su tre scaglioni già in vigore nell'anno in corso. Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali e viene introdotta anche una carta per i nuovi nati che riconosce 1.000 euro ai genitori entro la soglia Isee di 40 mila euro. Sulle pensioni sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l'età della pensione ma restano al lavoro. Tra le coperture per la manovra saranno previsti dei contributi da parte del settore bancario e assicurativo. Punto numero uno, attenzione ai redditi medio-bassi di lavoro dipendente che avranno una situazione migliore rispetto alla precedente. Nessun altro avrà situazioni peggiori, quindi non ci saranno nuove tasse, quindi mi dispiace deludere le attese. Ci sarà un'attenzione particolare per la famiglia e quindi con un nuovo sistema di calcolo delle detrazioni fiscali che favorisca i soggetti familiari numerosi, chiamiamolo quoziente familiare e il miglioramento di alcuni istituti che abbiamo introdotto l'anno scorso e che rafforziamo, tipo i congetti parentali che all'80% che vanno da due a tre mesi. Torna a salire il debito pubblico che ad agosto è aumentato di 11,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.962,5 miliardi. L'incremento, come rende noto la Banca d'Italia, è dovuto principalmente all'aumento delle disponibilità liquide del tesoro e all'effetto complessivo di scarti e premi all'emissione e al rimborso, con riferimento alla ripartizione per sottosettori, l'aumento del debito è riconducibile a quello delle amministrazioni centrali, cresciuto di 12,1 miliardi. Quello delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. Stabile a 7,8 anni, la vita media residua. Rispetto ai dati pubblicati al 16 settembre, il debito delle amministrazioni pubbliche è stato rivisto al rialzo di 2,5 miliardi nel 2020, 4,6 nel 2021, 4,7 nel 2022 e 5 nel 2023. Le entrate tributarie ad agosto sono state pari a 62,4 miliardi in aumento di oltre il 13% su base annua. Nei primi otto mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 13,1 miliardi di euro che si aggiungono ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 dell'anno precedente. I dati sono contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico dell'Inps. Nel dettaglio sono più di 6 milioni 246 mila i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nell'anno in corso per un totale di quasi 9,9 milioni di figli. Nel mese di agosto l'importo medio per figlio è stato di 172 euro, con una forbice compresa tra i 57 euro di chi non presenta Isee o supera la soglia massima di reddito ai 224 euro per la classe di Isee minima. L'assegno unico introdotto nel marzo 2022 ha sostituito altre forme di sostegno economico, come gli assegni familiari e le detrazioni fiscali, con l'obiettivo di semplificare e unificare il sistema di sostegno alla natalità e alla famiglia. Ne beneficiano i nuclei con a carico figli minorenni, per quelli con figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, gli importi sono ridotti e variano da un minimo di 27 a un massimo di 91,90 euro al mese. Siamo all'Europa, un'altra notizia importante della settimana molto attesa, vediamo come è andata con la BCE il potenziale taglio dei tassi di interesse. Sentiamo. Il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Quelli sui depositi presso la BCE, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente al 3,25, al 3,40 e al 3,65%. Si tratta della terza riduzione dei tassi nel 2024 dopo quelle decise a giugno e a settembre. Secondo la BCE il rallentamento dell'inflazione è ben avviato e le prospettive sono inoltre influenzate dalle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell'attività economica. Le condizioni di finanziamento rimangono restrittive. La Banca Centrale Europea si attende che l'inflazione dell'eurozona aumenti nei prossimi mesi per poi diminuire e raggiungere l'obiettivo del 2% nel corso del prossimo anno. Al tempo stesso le pressioni sul costo del lavoro dovrebbero seguitare ad attenuarsi gradualmente in un contesto in cui i profitti ne mitigano parzialmente l'impatto sull'inflazione. Il Consiglio Direttivo è sempre determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione al suo obiettivo del 2% a medio termine e manterrà i tassi di riferimento su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario. Nei 2023 i residenti nell'Unione Europea hanno effettuato 1 miliardo 140 milioni di viaggi turistici con almeno un pernottamento, facendo registrare un aumento del 5,7% rispetto all'anno precedente. Nella maggior parte dei casi, il 73%, si è trattato di viaggi nazionali, più della metà con pernottamento compreso entro i tre giorni. La spesa media è stata di poco meno di 98 euro a notte. I turisti del Lussemburgo sono quelli che hanno speso di più, seguiti dagli austriaci e dagli irlandesi, mentre i residenti di Grecia, Polonia e Repubblica cieca sono quelli che hanno sborsato di meno. I dati sono stati resi noti da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Il 90% dei viaggi del 2023 è stato effettuato per motivi personali. Nel resto dei casi si è trattato invece di viaggi professionali. Tuttavia, entrambi i settori sono cresciuti rispetto all'anno precedente, rispettivamente del 5,4% e del 9,3%. In dieci anni il numero di viaggi per motivi personali è aumentato dell'11,7%, mentre quello per motivi professionali è diminuito del 6,3%. Cresce anche il numero di notti prenotate tramite piattaforme online. Il fenomeno riguarda tutti i paesi dell'UE. A giugno 2024 gli incrementi maggiori sull'anno precedente hanno riguardato Malta, Lituania e Svezia. Dopo le notizie dell'Europa siamo al momento della nostra intervista. Con piacere annuncio il nostro ospite di oggi, Marco Granelli, Presidente di Confartigianato. Buongiorno, grazie. Grazie di essere venuto da noi. Già ci siamo conosciuti nelle rubriche del multimediale di Italpress, nella rubrica Primo Piano, quindi è stato intervistato dal sottoscritto. Questo è un format nuovo, totalmente dedicato alle politiche economiche e all'economia e quindi come Presidente di Confartigianato oggi ci può dire delle cose importanti sul mondo delle aziende che voi rappresentate. Vogliamo dire due dati su Confartigianato. Noi quando ho fatto la prima puntata ho detto che avremmo chiarito le sigle, le associazioni, le persone, però se lo vogliamo dare poi andiamo direttamente ai temi. Sì, quando parliamo di Confartigianato parliamo di circa 700 mila soci, 1187 uffici in tutta Italia, quindi molto capillari, tutte le associazioni regionali. Abbiamo una capillarità che ci fa dire che dopo i carabinieri, dopo le poste siamo presenti noi. Quindi un mondo che viene dall'antico e da lontano, però direi un mondo molto contemporaneo con una sede a Roma, via San Giovanni da Terano, zona Colosseo per intenderlo. Beh, allora, senta, la prima cosa che le chiedo riguarda l'evento di politica economica dell'autunno e cioè la scrittura, la composizione delle leggi di bilancio. Voi siete degli interlocutori importanti. Che cose chiede Confartigianato al governo nella scrittura di queste leggi di cui arrivano ogni giorno notizie, pillole, poi qualcosa è finito nel decreto omnibus sulla riforma fiscale, qualcosa no. Però insomma a me interessa a voi che cosa chiedete di preciso che ci sia rappresentato lì dentro per quanto riguarda le vostre aspettative. L'importante innanzitutto è che sia cruciale di non abbandonare il muo di il focus sulla crescita, chiaramente mantenendo anche in equilibrio quello che è il rispetto delle regole rigorose di bilancio con comunque un'attenzione alla sostenibilità e allo sviluppo delle imprese. Oggi le rivendicazioni, se così possiamo chiamarle, da parte del nostro mondo le facciamo sempre comunque in un'ottica di responsabilità generale, che vuol dire che anteponiamo sempre l'interesse anche dai cittadini rispetto a un contesto che vediamo oggi essere abbastanza difficoltoso. Molto pragmaticamente, per andare nelle varie ambiti in cui siamo interessati, noi auspiceremo che questa legge di riforma fiscale venga attuata completamente con una particolare attenzione all'IRPEF, quello che riguarda specialmente il secondo scalione dove c'è un aliquota al 35%, vorremmo una riduzione di questo e vorremmo anche che fosse stabilizzato anche tutto quello che è il mondo incentivi legati comunque alla ristrutturazione, alla riqualificazione energetica, al bonus verdi e mobili, perché riteniamo che il Paese ne abbia bisogno per la vulnerabilità e la vettustà che hanno tanti mobili nel nostro Paese e accanto a questo vorremmo anche che rispetto ad alcuni elementi che hanno stato introdotti, alcuni obiettivi antifrode, oggi con la fatturazione elettronica e con la trasmissione telematica dei corrispettivi direi che reverse charge e split payment potrebbero essere messi in soffitta con gioia nostra per avere una liquidità che è indispensabile anche nel fare presa. Prima del fronte del lavoro voglio fare ancora una piccola deviazione sul fisco, lei sa che c'è stata questa discussione molto forte nel decreto omnibus sull'idea di venire incontro ancora di più a chi ha fatto un concordato preventivo, una vicenda che riguarda singole partite, io ma anche le aziende, soprattutto le PMI, quelle non gigantesche ma quelle più piccole e c'è stata grande polemica perché si è detto ma ancora una volta venire incontro tra virgolette agli evasori, quindi se vi è stato dato tra virgolette degli evasori potenziali, allora insomma forse è il caso di dare una risposta su questo, insomma no? E se ci crede a quest'idea del fisco amico, se è una via possibile per migliorare il rapporto con i cittadini ma anche con le aziende che chiedono semplificazione, un atteggiamento non punitivo, un atteggiamento di comprensione rispetto al contesto storico post Covid che hanno vissuto le aziende. Io direi che deve proprio nascere da questo, credo che sia indispensabile oggi a ragionare con il fisco come ha usato anche il governo in questi ultimi anni come una leva per lo sviluppo, perché è solamente in quest'ottica, è solamente in questo senso che si potrà anche far accettare e fare aumentare la consapevolezza da parte oggi di chi deve pagare le tasse e questo viene fatto in un'ottica anche di equità, per cui respingo il mittente anche tutti gli accusi che vengono fatte. Non sono le mie, io ho registrato come è un luogo comune ormai, ho partecipato dei talk in cui ho sentito questa cosa e quindi glielo ho restituito. Quello ormai sono vaccinato, questo tipo di domande, però dico assolutamente noi siamo oggi per il rispetto degli adempimenti, quindi per pagare le tasse, chiaramente chi non lo fa oggi è fuori dal nostro mondo e sicuramente non ha la nostra condivisione. Devo dire che però i numeri oggi sono rispetto a questo tipo di evasione, non sono numeri che sono numeri da debitare a noi, non siamo i colpevoli di questi numeri che oggi sono così facendo. Torniamo alla legge di bilancio, alle richieste, Fisco l'ha fatto, mi stava parlando delle poeriche del lavoro. Stiamo nel lavoro perché credo che oggi vada, intanto il dato Istat è un dato positivo perché in questi ultimi giorni è uscito il rapporto che non c'è mai stata così alta il percentuale di occupazione, ma abbiamo un tema legato ai famosi NIT, ai giovani, noi oggi nel mondo dell'artigianato vorremmo che questi giovani fossero parte della nostra realtà, per cui credo che puntare sull'apprendistato professionalizzante che vorrebbe dire tre anni di decontribuzione per aziende fino a nove dipendenti avrebbe un grande vantaggio quello di trasmettere a tanti giovani delle competenze che sono di alta qualità nel mondo artigiano, perché chi oggi fa il maestro nei nostri laboratori, nelle nostre botteghe è il titolare d'azienda, per cui credo che il sapere artigiano oggi abbia attraverso questo strumento una continuità che vuol dire anche bellezza italiana, qualità, unicità e personalizzazione. Accanto a questo è chiaro che una riduzione generale dei costi del lavoro con un'alternanza scuola del lavoro sono obiettivi che noi ci prefiggiamo che vorremmo che fossero messi in campo. Senta, 4 milioni, reggo di artigiani, piccole imprese italiane, insomma un bel mondo, un mondo importante, di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, quelli che sono quelle che conosciamo, l'innovazione, l'innovazione tecnologica e il rispetto dei criteri della sostenibilità, un mondo che cambia, quello delle industrie, anche del capitalismo mondiale, i rapporti con l'estero, la geopolitica, tutto un mondo che pone le imprese, anche le vostre imprese e i 4 milioni che sono dentro queste imprese, di fronte a una grande sfida. E che cosa chiede un fartigianato, chiaramente soprattutto alle istituzioni politiche? In questa sfida anzi può essere da soli, non basta solo la vostra associazione che rappresenta i problemi, i diritti e le ambizioni del vostro mondo, qualcuno vi deve accompagnare. Ma io le rispondo con una risposta che vale per tutto, al di là di entrare nei singoli capitoli lavoro, burocrazia, fisco, che sono temi ormai ordinari, mi vengo a dire. Però oggi quello che vorremmo è che ci fosse un'Italia a misura di quella che è la cultura, di quella che è la struttura, l'ossatura produttiva di questo paese. Quindi per noi parlano i numeri, quando parliamo oggi del sistema Italia, dell'economia italiana, parliamo del 99,4% di aziende che hanno meno di 50 dipendenti, 98 meno di 20 e 94 meno di 10. E se l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa, vuol dire che questo modello funziona e semmai il contesto non funziona. Per cui quello che chiedo più di tutti è che venga normato in funzione di quello che è questo nostro tessuto economico. Noi faremo la nostra parte, perché chiaramente non pretendiamo che tutto venga calibrato rispetto a delle istanze di piccolo taglio, molte volte mi viene da dire, perché siamo organizzati, ci stiamo organizzando in reti, in consorzi, in ati che funzionano. Nel nostro mondo già abbiamo avuto esperienza nell'ambito del credito, nel mercato estero, nell'ambito dell'energia, quindi abbiamo grandi numeri che danno l'opportunità ai nostri aziende di mettersi assieme e di affrontare meglio queste sfide. Questo un po' lo dicono anche gli economisti delle fondazioni tipo Inaudi che studiano nel mondo delle piccole e medie imprese, che parlano di una radiografia non statica, ma di un mondo mobile, in cui i piccoli si associano, in cui i medi tendono a diventare grandi, ma sono sempre in una posizione di trasformazione, non mai in una posizione statica, per cui il piccolo rimane sempre piccolo da solo, non so se condivide questa fotografia. Dico anche che per decreto non si cresce, per cui oggi il fatto di poter per esempio sostenere le reti, credo che sia una cosa intelligente, perché consente all'artigiano che è spiccatamente individualista nel fare le sue cose, di mettere però assieme e di poter sostenere meglio quelli che sono i costi di attività, perché oggi è chiaro che non basta solamente avere una grande capacità, una grande manualità, una grande tecnica, ma occorre anche avere dei costi che sono poi da attribuire alla qualità, alla burocrazia che c'è, alla parte più tecnica, alla sicurezza, sono tutti oneri che oggi magari qualche azienda sola non riesce oggi a sopportare, mettendosi assieme a più forti di penetrazione, può avere mercati esteri più alla portata, quindi può contribuire a uno sviluppo in una maniera diciamo più serena. Senti, io un'altra ho intervistato Giulio Premonti su questo tema, oltre alle tasse mi ha detto che il grande incubo delle PMI italiane sono le norme, l'eccesso di norma, cosa gli ha detto su questo piano e sul codice degli appalti in particolare? Noi vorremmo che oggi questi numeri che sono oggi di appalti, di grandi cifre, vorremmo che fossero divisi in lotti e soprattutto che venisse valorizzata anche la prossimità, cioè tutte le manutenzioni, io vengo da una regione dove purtroppo le esondazioni hanno provocato tanti danni, io credo che il fatto di poter dare più opportunità, quindi avere anche un serbatoio anche di appalti da dedicare alle piccole aziende del territorio, che sono sentinari del territorio, quindi hanno conoscenza di tutto quello che è il disserto ideologico, credo che potremmo tornare a una politica di manutenzione, una partecipazione agli appalti di gente che oltre ad avere il profitto mette anche una competenza e mette anche il cuore nel fare questi lavori che chiedo che oggi facciano ancora differenza. Ultima domanda, vedo il tempo come scorre in fretta, però abbiamo detto che mi sembra le cose importanti, sui grandi temi che contano, l'occupazione è anche questo, i dati sull'occupazione generale sono positivi, poi c'è chi discute, ma non è materia di questa nostra intervista, lo lasciamo ai talk ideologici, positivi, negativi nella quantità, nella qualità, sono dati positivi, ma qual è la situazione al di là del numero statistico nel mondo dell'artigianato delle piccole e medie imprese che afferiscono alla vostra associazione? Su una richiesta nel 2023 nel mondo micro e piccole imprese, quindi per esempio fino a 50 addetti, le figure che venivano ricercate erano 3 milioni e mezzo, di queste figure 1 milione e 600 mila non sono state reperite, quindi hanno messo in evidenza un problema purtroppo difficile, forse anche da risolvere per le tempistiche, che è in parte legato alla demografia, perché se ne parla poco, ma effettivamente ci sono tanti meno giovani, tanto meno da buonascite, e questo è un problema quindi che nasce da lontano, perché non si è investito abbastanza comunque in quelli che sono i servizi sociali alle famiglie, penso agli asili, penso al fatto che la Francia spende al 2% del PIL per delle politiche di welfare e penso al fatto che invece noi spendiamo la metà, ma penso soprattutto anche che quello che ha mancato è proprio questa connessione fra scuola e mondo del lavoro, quindi oggi più studi tecnici, professionali, più valorizzazione di quello che è impropriamente chiamato lavoro manuale rispetto a quello intellettuale, perché gli artigiani usano mani, testa e cuore, quindi quello oggi basterebbe perché occorre anche, oltre a fare, mettere assieme questi due mondi che non si incrociano tanto, scuola, artigianato e piccola impresa, occorre anche un cambio culturale delle famiglie, quindi le famiglie oggi devono spingere e devono dare dignità e riconoscere il fatto che anche un figlio in un ambito di un lavoro artigianale può soddisfare le proprie ambizioni, può realizzare i propri sogni e può avere un'indipendenza e può coronare e avere una vita anche di successi anche dal punto di vista economico. Io li voglio rileggere questi dati dagli appunti che ci avete mandato perché sono molto importanti per chi ci segue, nel 2023 su 5,5 milioni di lavoratori, l'ha detto Lemo, allora li dico io, necessarie le aziende, 2,5 milioni sono risultati difficili da reperire, 45,1% quindi di quote di difficile riperimento, per imprese artigiane su 521 mila lavoratori da assumere 287 milioni sono stati difficili da reperire, 55,2% quote di difficile riperimento, siamo entrambi i concetti, i parametri quasi intorno alla metà, quindi le soluzioni in parte lei le ha dette, però insomma… Quello è il problema, il problema è che oggi abbiamo una grande transizione da affrontare, una transizione digitale e lì se mancano le competenze, mancano le persone che sappiano accogliere e rivestire certi ruoli, corriamo il rischio di subire i danni e non vediamo i benefici. Due cose al volo che tornano sempre, il flusso regolare di migranti, dice questa è l'occasione per poter raccogliere al nostro paese le persone senza le solide discussioni, il capacità da parte vostra, quindi delle aziende, dei direttori del personale, dei capi aziende, di trattenere in un progetto i cosiddetti millennials che oggi pensano molto ai propri diritti e non solo al lavoro in quanto tale, le piace queste due cose che ero detto? Sì, mi piace, oggi credo che noi vogliamo essere soprattutto attantivi per i giovani, ma oggi anche nel nostro fare c'è un aspetto anche sociale, credo che possa mettere insieme quello di dare delle opportunità a tante persone che vengono da fuori attraverso dei flussi regolari, del presso dei flussi che possono essere anche una volta arrivati qua in Italia formate questa gente per poter anche andare a rimpinguare le fila di tante attività che ahimè oggi stanno scomparendo. Senti, è stato puntualissimo, abbiamo avuto 30 secondi di abbono, io la ringrazio, Marco Granelli, Presidente di Confartigianato che l'abbiamo sottratto prima, un convegno importante qui a Milano su questi temi, insomma qui si discuterà il mondo delle imprese e delle associazioni delle imprese o il mondo politico e però quando vuole, insomma magari prima dei due anni che abbiamo fatto, facciamo un po' un fact checking, magari dopo la legge di bilancio all'inizio di anno, di quello che poi delle cose che avete chiesto, quante se ne ritrovano lì dentro, anche se lo diciamo tutte le volte, una legge di bilancio non può assolvere a tutti i compiti dell'economia, anche lì deve avere una gradualità, una strategia, però indubbiamente ricordiamoci che il vostro mondo è quello che ci assicura, quello che noi chiamiamo crescita e anche occupazione e quindi che il mondo di chi fa le norme deve tener conto di questo mondo qui, no? Siamo d'accordo? Siamo d'accordo, intesa. La ringrazio ancora e ci vediamo insieme, un servizio che c'è sempre nel nostro format sulle novità del mondo del tech, ecco. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle imprese che producono o distribuiscono tecnologie assistive per allestire nella propria sede un laboratorio dedicato all'accessibilità digitale. Le aziende interessate possono aderire per conferire ad Agid questo tipo di dispositivi, incomodato d'uso gratuito fino a giugno 2026. I dispositivi verranno utilizzati per le attività del laboratorio che prevedono dimostrazioni pratiche, teste di accessibilità e momenti di formazione che avranno oggetto le tecnologie assistive di cui Agid darà visibilità sui suoi canali istituzionali. Per rispondere alla manifestazione di interesse c'è tempo fino al 6 dicembre prossimo. Tra gli obiettivi del laboratorio supportare le 56 pubbliche amministrazioni che operano in veste di soggetti subattuatori della misura 1.4.2 del PNRR nella scelta delle tecnologie assistive da acquistare per il proprio personale con disabilità nel loro utilizzo e nelle relative attività di formazione. Siamo al momento del nostro focus, oggi particolarmente importante perché sono passate poche ore direi di grande discussione, Giuliano Zoppis oggi il nostro economista di fiducia, oggi siamo insieme nello studio di Roma perché insomma queste 38 pagine sulla legge di bilancio che la Premier Meloni ha voluto formalmente formalizzare, se mi concedi questo gioco di parole in fretta, mandarlo all'Europa. Insomma hanno creato un po' di malumori negli alleati, Teiani e Salvini, però soprattutto c'è tempo ancora con il viaggio parlamentare, però intanto con questo blitz abbiamo capito cosa c'è e quindi io lascio a te la parola e la domanda è quella che è stata posta un po' a tutti anche a me nei talk, bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, cosa ci trovi nel merito o nella visione? Poi voglio fare una domanda a parte sulle banche e lì devi essere preciso perché ormai è diventata una discussione nazionale su questo. Una manovra che ha raggiunto gli obiettivi in questo momento raggiungibili, nel senso che sono 29 miliardi per la manovra, a mio avviso, come mio giudizio è una manovra fortemente orientale verso il sociale e lo dicono i numeri sostanzialmente, per confermare il taglio strutturale dell'IRPF a tre aliquote e per confermare il taglio strutturale del cuneo fiscale sono allocati quasi 18 miliardi di Euro, per tutte le misure che hanno a che fare con la socialità e la natalità, quindi tutte le politiche sociali per le famiglie ci sono altri 2 miliardi, sono sostanzialmente 20 miliardi su 29, quindi da questo punto di vista il giudizio politico è un giudizio che comunque orienta l'opinione pubblica verso le categorie meno protette, ricordiamo che il taglio strutturale va a toccare sostanzialmente tutto quell'insieme di lavoratori che stanno entro i 40 mila Euro e il taglio delle tre aliquote che forse addirittura si potrà migliorare tutti coloro che stanno entro i 50 mila Euro, quindi sostanzialmente è un intervento che va in questo senso. Anche l'intervento sulle politiche sociali contengono alcuni elementi nuovi, per esempio la carta per i nuovi nati, sono 1000 Euro a famiglia con i sé entro i 40 mila Euro, viene rafforzato il bonus asilo nido, viene rafforzata a livello economico la carta dedicata a te e anche vengono introdotte secondo quell'obiettivo che il governo si è dato del quoziente familiare e maggiori detrazione fiscale sulla base dei familiari a carico, quindi da questo punto di vista sicuramente c'è un intervento importante. Poi ci sono altri interventi che servono per confermare per esempio tutte le misure sociali della Previdenza, quindi viene confermata quota 103 a proposito degli altri 9 miliardi, l'ape sociale, l'opzione donna e il bonus cosiddetto marroni, sostanzialmente per tutti coloro che anche nel pubblico impiego decidono di rimanere a lavorare ancora per un anno o due dopo la scadenza previdenziale. Ci sono anche altre misure? Ti voglio fare due domande, una sulla sanità e una sulle banche. Sulle banche in conferenza stampa Giorgetti ha detto che la parola sacrificio si riferiva a loro, tutti hanno pensato in un primo momento, come dico io all'opzione Robin Hood, ah finalmente è arrivato un governo che ha preso i soldi, i famosi extraprofitti e li ha messi a disposizione dei cittadini, poi è stato chiarito, tu l'avevi già detto nel fausto della scorsa settimana, che si tratta di meccanismi fiscali con le banche, delle azioni mancanti, anticipi che vengono da di prima, con una restituzione se non sbaglio a partire dal 2026-27, poi tu sarai più preciso di me, però io dico comunque sia queste banche che hanno guadagnato tanto, 3 miliardi e mezzo in questo momento li metto a disposizione di un governo per fare una morava sui cittadini, questo è il dato, perché poi dopo l'opposizione ha detto che è un furto, l'ennesimo imbroglio con gli italiani, ma perché? Qualcuno ha parlato di tasse o di extraprofitti, vuoi chiarirlo tu da economista? Sì, allora sostanzialmente Claudio. Che cosa si è trattato? Perché poi secondo me su questo le parole scugono, sfuggono anche i concetti, no? Sì, l'intervento più precisamente è di 3 miliardi e mezzo e tocca sia le banche che le assicurazioni. Cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente, per quello che riguarda le banche, di un rinvio dei crediti d'imposta, sostanzialmente vengono anticipate, sono anticipazioni di cassa che servono ad aumentare la liquidità per il governo, per la sua manovra e sono allocati tutti quanti sul 2025, dopo dovranno essere restituiti, questo sicuramente, però si tratta di un intervento concordato con il sistema e che genera liquidità immediata per quello che riguarda le esigenze di cassa del governo. La stessa cosa per un miliardo di lire circa vale per le assicurazioni, anche qui c'è un'anticipazione che toccherà l'imposta di bollo e anche in questo caso c'è una liquidità di circa un miliardo per le banche, questo è per quello che riguarda la domanda che mi facevi. Abbiamo chiarito, per quanto riguarda la sanità, c'è stato questo documento mandato a Bruxelles, per cui, sai, oramai ci sono queste associazioni, il GIMB, che una volta facevano il monitoraggio del Covid, oggi sono diventati organi di denuncia, poi subito oggi i giornali titolano, ieri i giornali scusa titolavano grandi proteste dei medici, dei sanitari, sono solo 880 milioni, poi Giorgetto ha precisato che in realtà già per il 2025 su 2 miliardi e 3, e comunque la PM è intervenuta la scorsa notte su X, ex Twitter, per dire che sulla sanità lei si sente di dire, rimarcare ancora una volta, di farla finita con le false informazioni perché la spesa complessiva sta raggiungendo il massimo storico del Fondo Nazionale per la Sanità. Allora, vogliamo chiarire anche qui? Sì, è un dato di fatto, nel senso che comunque si va ormai verso un ammontare complessivo di 136 miliardi sulla sanità, nel biennio prossimo sono allocati 3,7 miliardi e a parte le precisazioni di carattere contabile che sicuramente esistono, però bisogna sottolineare come queste misure interverranno subito sui problemi più urgenti, per esempio di questa somma complessiva circa 2 miliardi saranno utilizzati per assumere 30 mila medici e infermieri. Quindi da questo punto di vista, sono di più, però si tratta comunque di contabilizzazioni, calcola che oltretutto perché su queste cifre, come purtroppo succede sempre in qualsiasi governo, ballano le incertezze di un testo. Il testo verrà presentato entro il 21 di ottobre in Parlamento e viene materialmente scritto in queste ore, per cui probabilmente alcune bozze che girano, da giornalista, ex giornalista so perfettamente com'è, ex giornalista e giornalista, girano queste bozze e che sostanzialmente spesso ingannano, abbiamo visto per esempio che ci sono alcune misure che sono state radicalmente riviste, per esempio il bonus casa si diceva che avrebbe riguardato soltanto il 36% anche per quest'anno, mentre in realtà poi è stato chiarito che il bonus casa rimarrà al 50% per tutto il 2025. Quindi da questo punto di vista oggettivamente Claudio bisogna anche attendere i testi ufficiali che poi sono quelli che porteranno a questa lunga corsa verso il 31 dicembre, entro la quale sarà approvata in via definitiva la manovra. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Che il tempo è finito? Poi ne parliamo ancora? No, la cosa importante da dire è che su tutto questo complesso di misure che ricordiamoci fanno parte del documento di programmazione mandato anche a Bruxelles e che sostanzialmente riguarda il nostro futuro da qui a 5 anni, incide sicuramente la manovra di riduzione dei tassi avviata dal BCE, che porterà sicuramente nuova linfa e forza anche al sistema produttivo. Io ti ringrazio per quella precisazione come sempre molto puntuale che fai, non sei un ex giornalista, hai militato in tanti organi di stampa, in tante testate con ruoli importanti e oggi sei un giornalista, libero professionista che è minuto dentro Italia per se sei un ex giornalista. Ti fai del male? No, no, no. No, insomma, questi sono dei lapsus che io correggo nella mia cattiveria freddiana, come sapete, insomma. Invece Giuliano Zoppis è stato molto preciso e giornalistico, ha spiegato le parole, i numeri e i meccanismi. Come devono essere dette ai cittadini? Essendo questa l'agenzia di stampa li trasferiamo con estrema chiarezza e nessuna ideologia a chi ha il piacere di seguirci per iscritto, sui social, nelle televisioni e nei siti. E poi sai c'è una bella notizia che non è la legge di bilancio, ma il mercato canadese riapre i prosciutti crudi italiani. Stiamo parlando del nostro Tg dell'agri-food. Eccolo qui. Il Canada ha ufficialmente riaperto le porte alle importazioni di prosciutti crudi provenienti dall'Italia, compresi quelli delle aree colpite dalla peste suina africana. È quanto annunciato dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, per il quale questo riconoscimento rappresenta un traguardo significativo non solo per il sistema produttivo del bel paese, ma anche per le aziende locali che hanno dovuto affrontare enormi difficoltà a causa delle restrizioni causate dalla peste suina africana. L'Italia è il primo paese europeo con case di peste suina a ottenere il via libera dallo Stato nordamericano per l'exporto di prodotti provenienti da queste aree. Per Lollobrigida si tratta di un segnale forte, positivo e di fiducia per i consumatori canadesi che possono così continuare a gustare alcune delle migliori prelibatezze gastronomiche provenienti dall'Italia. Questo riconoscimento è un chiaro segnale di fiducia verso le eccellenze agroalimentari della penisola. Bene, è tutto per questa puntata, tutto per oggi, abbiamo mantenuto le promesse, l'abbiamo detto, puntata ricca su temi anche molto importanti in cui abbiamo dato le notizie, abbiamo spiegato, interviste importanti a esponenti del mondo delle nostre PMI. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi per averci seguito e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con Italpress Economy. Arrivederci.